Parte un progetto per l'inserimento sociale e lavorativo dei detenuti dell'Istituto Penitenziario di Secondigliano, basato sul recupero degli arredi scolastici dismessi, per consentirne il riuso tramite la loro rigenerazione attraverso il lavoro del laboratorio di falegnameria. È prevista pertanto la formazione dei detenuti per lo smontaggio, la lavorazione, la rifunzionalizzazione o trasformazione degli arredi ed anche la partecipazione attiva delle scuole nella riduzione degli sprechi e dei rifiuti. Ed il risultato finale sarà l'allestimento delle aule con i nuovi arredi provenienti dai laboratori. È un buon progetto, fatto bene, equilibrato, che coinvolge le risorse giuste e che ha un obiettivo molto concreto, può dare un senso alla detenzione. E cioè durante la fase di detenzione la Costituzione dice che bisogna innescare meccanismi di recupero per il reinserimento alla fine del periodo detentivo. Questo diventa una specie di eccezione incredibile, quindi fare dei progetti come questo mostra nel percorso che bisognerebbe fosse generalizzato. Creare occasioni di formazione on the job per i detenuti, la necessità di una seconda opportunità che sviluppi competenze una volta che si saranno fuori dal carcere. Però contemporaneamente noi come Comune di Napoli abbiamo sempre avuto, come tutti i comuni, il tema degli arredi scolastici inutilizzati, inutilizzabili o dismessi che costituiscono naturalmente contemporaneamente uno spreco e un rifiuto ingombrante estremamente difficile da smaltire. A questo si aggiunge il tema anche economico che non trascurerei del dover sostituire continuamente ovviamente questi arredi con arredi nuovi. Allora noi abbiamo pensato di tenere insieme i tre pezzi. Questo significa combattere gli sprechi, ridurre i rifiuti, dare coscienza civica agli studenti che vedono che quello che è stato distrutto in realtà può essere rigenerato e quindi sviluppano una coscienza ecologica e contemporaneamente però fare di questa cosa un'occasione di formazione nei laboratori di falegnameria presso il carcere di Secondigliano dove maestri falegnami insegneranno ai detenuti un mestiere di cui non manca mai la necessità.